Buongiorno a tutti. Le misure cautelari sono state eseguite nei confronti di una dirigente dell'ASP di Catanzaro, Eliseo Ciccone, di 65 anni, un dirigente della Regione Calabria, Salvatore Lopresti, di 58 anni, e due manager della società Bebcock MSC Italia S.P.A., operante nel settore dell'elisoccorso, Monica Mazzei, di 50 anni, e Leano Bertola, di 38 anni. Tutti indagati per concorso in atturbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. Inoltre, sono state effettuate perquisizioni in Calabria, Lombardia e Veneto. Noi abbiamo sempre parlato della permeabilità della pubblica amministrazione, abbiamo dimostrato con le ultime cinque indagini fatte con la Guardia di Finanza come si è speculato, ricordate, sui poveri, come si è speculato sui malati che avevano bisogno di assistenza a casa. Cioè, quindi, la spregiudicatezza non ha limiti, il nome del denaro si è disposto a qualsiasi cosa. Qui, in questa indagine importante, difficilissima, la Guardia di Finanza in particolare, con i colleghi Rapino, poi Vito Valerio, con il collega Capomolla, siamo riusciti a costruire, a dimostrare passo passo come si trucca una gara. È un manuale di come si trucca una gara. Sostanzialmente noi abbiamo seguito per un anno facendo pedinamenti, facendo rilievi, esattamente come facciamo per i trafficanti di cocaina. Pensate che per incontrarsi cambiavano cinque, sei ristoranti nella sola Catanzaro. Voi sapete la difficoltà per muoversi in questa città. Ma le abbiamo seguite a Bolzano, le abbiamo seguite a Milano, le abbiamo seguite dappertutto. Abbiamo tracciato le loro mail, i loro file, le intercettazioni telefoniche, ambientali. Abbiamo dimostrato un quadro che è sconcertante e considerata la spregiudicatezza. Si tratta di una società che ha sede a Milano, di soggetti del Nord che sono qui ad incontrare, ad abbracciare dei pubblici amministratori calabresi per manipolare, per far sì che la gara venga aggiudicata a questa società. Società molto importante, società che ha vinto in più regioni d'Italia, che ha vinto all'estero l'ultima tre giorni fa al Viminale per i Caneder per 100 milioni di euro. E ora ci spostiamo a Cosenza dove ci occupiamo dell'ospedale Annunziata che, come noto, versa in uno stato di emergenza. Paolo Talarico Situazione di emergenza all'ospedale Annunziata di Cosenza con il reparto di medicina d'urgenza in grossa difficoltà. L'affollamento del reparto di medicina d'urgenza ha infatti spinto il dirigente del nosocomio Bruzio a intervenire anche su altri tre reparti, ovvero quello di geriatria, di gastroenterologia e di medicina generale nei quali sono stati trasferiti alcuni pazienti destinati proprio al pronto soccorso. Una situazione emergenziale che ha provocato comunque dei disagi, perché se in alcuni casi sono stati aggiunti dei posti letto, nel caso di gastroenterologia è stata utilizzata la stanza destinata a dei hospital. Nessun paziente però, come ha precisato la dirigenza dell'azienda ospedaliera, è stato curato nei corridoi, ma l'alto numero di presenze al pronto soccorso comporta problemi di questo genere. Del resto, la chiusura degli ospedali in provincia, già da molto tempo, genera una situazione ingestibile all'annunziata di Cosenza. E ora passiamo alla politica. C'è grande attesa per le politiche del 4 marzo e nel prossimo servizio ascoltiamo gli obiettivi per il sud di Forza Italia con Roberto Occhiuto. Io ho partecipato alla stesura del programma nazionale di Forza Italia, che ha un capitolo importante per il mezzogiorno. Chiediamo sostanzialmente allo Stato di essere più incisivo, più presente al sud, di fare in modo che ci sia quella perequazione infrastrutturale rispetto al nord che mai si è realizzata nel nostro paese. Chiediamo che le risorse ai comuni per gli asili nido, per le menze, siano erogate non in ragione del costo storico, come è avvenuto in questi anni, ma in ragione del fabbisogno di posti letto oppure di posti per l'asili nido, di posti per le menze scolastiche. Sul mezzogiorno chiediamo ancora al governo di aprire un negoziato con l'Unione Europea per fare dell'intera Calabria una zona economica speciale, capace di attrarre investimenti ed investitori attraverso la riduzione del cuneo fiscale e quindi delle tasse sulle imprese e sul lavoro. C'è necessità però che la Calabria dia una risposta importante a Forza Italia, anche perché, come è evidente, queste elezioni per noi sono il primo round verso la conquista del governo regionale dopo i disastri della sinistra. Abbiamo classe dirigente che sta dimostrando di essere capace nel governo della città, mi riferisco al governo della città di Cosenza e anche alla città di Catanzaro. Questa classe dirigente dovrà essere impegnata per governare la Calabria. È bene che i calabresi ci danno forza oggi per conquistare la regione domani. Sappiano i sindaci della Calabria che il centrodestra si candida a governare questa regione. Chi vuole stare con noi approfitti delle elezioni politiche, perché dopo le elezioni politiche chiuderemo i cancelli del centrodestra, eviteremo che nelle liste del centrodestra per le regionali ci sia gente che fino all'ultimo ha sostenuto il centrosinistra. E da Cosenza ci spostiamo a Vibo Valencia, dove il presidente del Senato Piero Grasso ha parlato di sanità calabrese esponendo l'impegno di liberi e uguali di cui è il leader. Io voglio sapere qualcosa sul conflitto della sanità tra commissario e presidente della regione. Dovrebbe esserci una cessazione del commissariamento come è avvenuto già in Campania e in Lazio. Dovrebbe la regione tornare a regime ordinario, non straordinario col commissario. Questo è quello che bisogna fare. Il presidente del Senato Piero Grasso torna a Vibo Valencia dopo appena pochi mesi, ma questa volta lo fa in veste di candidato di liberi e uguali per parlare, come avete sentito, di sanità. La salute non si paga, deve tornare ad essere un diritto per tutti. Dobbiamo far sì che ci sia un abbattimento delle liste d'attesa. Non vogliamo più la sanità privata. Noi vogliamo che ci sia un'assunzione di 40.000 tra medici e operatori sanitari. Vogliamo ridurre i super ticket. Vogliamo che si torni a investire in strutture ospedaliere e in tecnologie diagnostiche avanzate. Questo è il nostro programma. Parlare di sanità a Vibo Valencia e omettere una battuta sul nuovo ospedale non era possibile, anche se però certezze sul suo futuro non ne ha potute dare. Addirittura questo ospedale che viene promesso da dieci anni e ancora non viene nemmeno in fase di esproprio dei terreni, mi risulta, quindi siamo in una fase ancora così arretrata da pensare che chissà quando potrà essere realizzato. Io penso che i cittadini di Vibo e tutti i calabresi hanno diritto alla salute come il resto dell'Italia. Non possono esserci soltanto delle regioni come Lombardia ed Emilia che hanno una sanità di eccellenza e invece il resto dell'Italia come tutto il mezzogiorno con una sanità di serie B, con cittadini che muoiono proprio per carenze sanitarie. Altro argomento di strettissima attualità, soprattutto in Calabria, è la vignetta sulla Presidente della Camera Boldrini. Gli attacchi a Laura Boldrini sono veramente da esecrare e dimostrano l'impegno che c'è stato da parte sua e da parte di Liberi Uguali su questi temi e su questo tema noi riceviamo appunto queste reazioni. Quindi noi dobbiamo continuare, siamo gli unici che difendono in maniera concreta, forte e chiara questo attacco razzista e fascista. Il professore Luigi Maselli, specialista in neuroscienze e presidente dell'Italian Lifestyle Medicine Association, ha incontrato a Cosenza i medici delle diverse branche per illustrare a loro il Lifestyle Medicine. 25 anni di studio e sperimentazione in prima persona, una passione irrefrenabile per lo sport e per la conoscenza dei misteri del corpo umano, sino ai meccanismi complessi delle neuroscienze e la Harvard Medical School. C'è tutto questo e molto di più alla base della nuova visione interdisciplinare della salute che si propone, in un contesto rigorosamente scientifico, di mettere pace tra la medicina, le scienze psicosociali, la biologia e la salute pubblica, costringendo le stesse a cooperare per il fine più elevato della scienza, ovvero il bene comune. Si chiama Lifestyle Medicine, cioè lo stile di vita come medicina. È il frutto di studi del professore Luigi Maselli, specialista in neuroscienze e presidente dell'Italian Lifestyle Medicine Association, ma anche coordinatore accademico del corso di alta formazione di Health Sciences on the Oral Agence alla Harvard Medical School. Innanzitutto il metodo, il metodo scientifico basato sull'evidenza, quindi su decine di anni di ricerca, è sul consolidamento e la strutturazione di un vero e proprio protocollo. Quindi non è più affidato semplicemente al buonsenso, ma a delle direttive ben precise. In più, grazie alla tecnologia, oggi abbiamo la possibilità di personalizzare lo stile di vita del soggetto, seguendo quelli che sono ovviamente i dettami che probabilmente tutti conoscono, ma pochi applicano, ma con l'ausilio di una tecnologia che consente alle persone di capire qual è la migliore attività fisica da svolgere, qual è il momento della giornata in cui svolgerlo, qual è la migliore alimentazione da seguire, con quali alimenti si è geneticamente compatibili, quindi un stile di vita che non è più basato solo sul buonsenso, ma anche sull'innovazione, sulla ricerca e quindi assolutamente personalizzato. Il professore Maselli ha incontrato a Cosenza medici delle diverse branche per illustrare loro la lifestyle medicine. Nell'occasione è stato anche presentato il bracciale salute, che è in grado di effettuare una misurazione della pressione arteriosa, ma anche eseguire un elettrocardiogramma e un test cardiaco. Grazie ai vari sensori e ad un algoritmo dedicato, il bracciale salute può catturare l'umore e la fatica. I dati rilevati dal bracciale si possono leggere sul cellulare scaricando un'app dedicata. Il vicepresidente della Regione Calabria, Antonio Viscomi, ha incontrato a Catanzaro l'Associazione Pensionati per raccogliere richieste e istanze. Vediamo come è andata. Siamo nella sede della vicepresidente della Regione, il professore Viscomi, che ci ha convocati come associazione dei pensionati dell'Ente Regione Calabria. Io sono presidente di questa associazione e abbiamo la necessità di confrontarci con il presidente, di porre una serie di problematiche. Oggi è il momento giusto perché il vicepresidente ci dica cosa intende fare la Regione per sostenere questa associazione, ma in genere quale politica avviare per sostenere le associazioni e i suoi delizzi che ci sono in Calabria. Sì, allora, tre cose sintetiche. La prima è che io continuo e ribadisco l'importanza dell'associazione perché quello che emerge dall'associazione e che mi colpisce molto, ne parlavamo prima, è ancora lo spirito di corpo, di identificazione con la struttura regionale. E questo credo sia molto bello. È una stagione in cui il pubblico dipendente subisce una serie di vessazione ambientale e culturale, per dire così, riaffermare che il pubblico dipendente è al servizio della collettività e si identifica molto spesso e molto più di quanto pensiamo con l'amministrazione per cui lavora. Quindi la vostra associazione è fondata, non è una raccolta di pensionati, non è un luogo di raccolta di pensionati, è un luogo in cui delle persone che hanno dedicato la loro vita alla regione continuano ancora ad offrirsi verso l'esterno e offrire le loro potenzialità. Mi auguro che questa intensità di partecipazione si possa anche estendere all'esterno con le altre pubbliche amministrazioni, che la vostra associazione possa diventare rappresentativa dei pensionati in genere, non soltanto della regione, della pubblica amministrazione. La seconda cosa è che ogni associazione, ogni struttura per poter funzionare, ha bisogno di un luogo fisico, questo è il punto di partenza. So le condizioni e lo sforzo che avete sostenuto per acquisire una sede nella zona centrale della città di Catanzaro, so anche che proprio per le funzioni che voi vi proponete di svolgere, credo sia un dovere della regione Calabria trovare un'allocazione adeguata nell'ambito del patrimonio di pertenenza della regione, per un'associazione che raccoglie in primo luogo in questo momento essenzialmente i propri dipendenti in pensione. Passiamo allo sport. A Rende il torneo Under 16 di rugby intitolato a Tonino Mazzuca è stato vinto dalla regione Sicilia. La città di Rende ha ospitato l'edizione 2018 del torneo di rugby giovanile dedicato all'indimenticato Tonino Mazzuca, vero e proprio guru del rugby calabrese. Un torneo interregionale che ha visto giocare sui campi del Cusco Senza Rugby e del campo che porta proprio il nome di Tonino Mazzuca le rappresentative giovanili Under 16 di Calabria, Sicilia e Puglia. Sicuramente questo è un momento importante per onorare la memoria di Tonino Mazzuca che è stato un grande esempio proprio per quanto riguarda tutto quello che ha fatto per i giovani. e quindi in questa occasione dove ci sta la Sicilia, la Puglia e la Calabria è l'occasione proprio per noi della federazione a mettere un po' un'attenzione sul movimento giovanile del sud e dall'altro per ricordare la figura di Tonino Mazzuca. Alla fine della giornata, dopo che si sono affrontate le tre rappresentative in una serie di partite incrociate, quella siciliana si è giudicata il torneo riconosciuto anche dalla Federazione Italiana Rugby. Diciamo che il movimento giovanile purtroppo per il sud è sempre un poco lento, diciamo, ecco perché dobbiamo lottare con la cultura rigbistica del sud, purtroppo al nord è più forte e quindi sia la Sicilia dove c'è il faro che è Catania e Messina e la Puglia cerca ora, a proposito della Puglia, sarà svolta la partita del sei nazioni under 20 a Bari e quindi è un'occasione sempre per aggregare un po' i reggibisti e fare un gruppo di forza perché il sud è un poco lento nel numero, manca un po' il numero, però si sta facendo un grosso sforzo, la federazione sta facendo un grosso sforzo con dei grossi investimenti per cercare di alimentare sempre più il movimento reggibistico del sud. E ora passiamo alla pallavolo, doppia trasferta per la Tonno Callipo Vibo Valencia impegnata contro Perugia e Modena. Dopo la sconfitta a Casalinga contro Milano, strada decisamente in salita per la Tonno Callipo Vibo Valencia che si prepara ad affrontare una doppia trasferta nel giro di pochi giorni e saranno due impegni decisamente proibitivi per la squadra vibonese. Mercoledì sera la Tonno Callipo sarà ospite di Perugia, ovvero la capolista. Domenica prossima poi la formazione di Franco Viac sarà di scena a Modena, ovvero la terza forza del campionato. Due match da pronostico chiuso in considerazione del rendimento della squadra calabrese e del valore degli avversari. Ma forse due gare che potranno far bene la compagine giallorossa, che potrà così preparare al meglio lo sprint finale quando si giocherà contro squadre di valore inferiore. Del resto Vibo è chiamata a riscattare una stagione finora decisamente deludente. La formula della Superlega mette a riparo Vibo da problemi diversi, ma affrontare al meglio la post-season deve essere un imperativo per una squadra costruita con ben altri obiettivi.